La risposta armata suscita un grosso problema, non soltanto può darsi che tu combatti ufficialmente per garantire il diritto di credere, però dentro di te non si crede del tutto, in coerenza di fede, ma c'è anche il fatto che la fede ebraica in particolare ti pone dei paletti sul piano del comportamento, sul piano morale. Per esempio uno di questi paletti è la legge che per gli ebrei all'epoca era la più importante, il sabato, il sabato è sacro a Dio, tu non puoi fare nessun lavoro, combattere è un lavoro, è proibito, ma se il tuo nemico ti attacca di sabato? Leggetemi due libri, vedete quante volte si sottolinea che di sabato l'esercito attacca, il giorno di sabato danno l'attacco, scelgono sempre il sabato per attaccare perché sanno che in questo modo costringono gli ebrei per potersi difendere e andare contro la legge per la quale combattono. E' un controsenso, continuo, è una strategia di guerra, ma che pone gli ebrei davvero in braga del telo, altrimenti nella melma, al porto e aui. No? Infatti ancora nel capitolo 2, versetti 29 fino al 38, c'è un episodio, fino agli inizi proprio, Batatia e i suoi si sono appena ritirati sulle montagne, è cominciata la guerra partigiana, comincia subito la reazione dei greci, no? E a un certo punto molti ebrei fedeli a Dio e alla sua legge andarono con i loro figli, le loro donne, i loro greci ad abitare nel deserto, perché non potevano più tollerare quella situazione. E arrivano i soldati, versetto 33, i soldati greci dissero loro adesso basta, venite fuori e eseguite l'ordine del re se volete avversarvi alla vita, che è sabato. E quelli rispondono, nessuno di noi si muoverà di qui e tantomeno eseguirà l'ordine del re, non profaneremo mai il giorno di sabato, perché già uscire era fare dei passi proibiti. Esatto, allora i soldati del re li attaccarono con le armi, quegli ebrei però non reagirono affatto, non lasciarono neanche una pietra, non lanciarono neanche una pietra e non si barricarono nei loro rifugi. Perché già quello era lavoro. E dissero, siamo tutti innocenti e come innocenti moriamo, il cielo e la terra sono testimoni che voi ci uccidete ingiustamente. Dato che era di sabato, quando li assalirono, si lasciarono uccidere con le loro donne, i loro bambini e i loro bestiame. Erano in tutto mille persone. È un problemaccio, eh? Come posso difendermi? Ma poi Giuda torrò, e poi era di sabato. Quello è un altro discorso, Giuda non rientra tra gli osservanti del sabato in questo caso, è vero o no? Ma anche tutti gli ebrei che hanno combattuto, Giuda, Maccabea e tutti gli altri, si erano attaccati di sabato, che facevano? A un certo punto hanno deciso, beh, combattiamo, ci difendiamo. Non saremo noi a attaccare di sabato, ma se ci attaccano ci difenderemo. Però sanno di andare contro, di mettere in discussione proprio quella legge di Dio in base alla quale, per difendere la quale, si sono dati alla macchia. E sul piano, diciamo, umano, è un problemaccio. È un problemaccio. Questa è comunque la prima risposta. Mi viene a dire, Don Pierino, su questa grossa contraddizione del sabato, lavoro o no lavoro? La contraddizione è una costanza nel cristianismo, nell'approccio del cristiano. E quindi, nella quotidianità, se ti approcci in qualche modo alla parola, è un contraddizione costante. Perché non puoi neanche radicalizzarla, non ci stai dentro in nessun modo, mai, non ci stai dentro mai. A meno che tu vada all'essenziale che è amare e basta. Certo, ma in che modo, visto che la faccenda non è risolvibile quotidianamente, si può affrontare un problema? Voi sapete che il riferimento alla legge del sabato in particolare, la legge del lavoro, per i cristiani, ha un altro significato rispetto agli ebrei. Per gli ebrei il riposo è la festa. Santificare la festa, per gli ebrei, è riposare. È riconoscere che la terra è dono di Dio. Che noi non ne siamo i padroni, ma siamo usufruttuari. E è fare quel che Dio ha fatto nel racconto della prima pagina. Per sei giorni lavora, al settimo riposa. Contemplare l'opera, darsi uno stile di vita, di rapporti gratuiti, amicali, verso la natura e verso le persone. Quindi niente lavoro, niente corse, niente cammini inutili, ma lo star lì tranquillamente in amicizia, in pace, con se stessi, con gli altri, con Dio. Questa è per loro la festa. Per i cristiani la festa è celebrare la Pasqua di Cristo. Non è il riposo. Nei primi secoli la Chiesa costringeva i cristiani a lavorare. Anche perché l'ordinamento romano a quell'epoca dell'impero non era per niente quello ebraico di sette giorni. Il calendario romano è tutt'altra cosa. C'erano giorni di festa. Per i ricchi c'erano almeno 10-15 giorni di festa all'anno, al mese. Per i poveri non neanche uno. Forse i saturnali, ma mica sempre neanche quelli. Quindi una volta all'anno c'era la festa. C'erano giorni sempre al lavoro. Comunque la Chiesa diceva, non solo a chi era sottopadrone, ma anche a chi era libero, voi nel giorno di lavoro lavorate. Non vogliamo che la gente dica che tanti diventano cristiani perché sono nazzaroni, gli piace riposare quando tutti gli altri lavorano. La motivazione era diversa. Quando invece, quando in Europa, già negli ultimi anni dell'impero romano e poi in Europa, nel Medioevo, il cristianesimo diventerà normale. e verrà utilizzato la settimana, la divisione del tempo dell'anno secondo lo stile ebraico e babilonese, allora il riposo diventerà un diritto dei poveri. Infatti, il precetto, cosa diceva, che sono proibiti i lavori servili, quelli che sono fatti dai servi, dagli schiavi, dai servi della greba, soprattutto il lavoro nei campi, il lavoro obbligato. Il lavoro, che sia dell'architetto o dell'artista che lavora perché gli piace, non è mai riempire il tempo, non è mai stato un peccato, ma diventa uno strumento di riscatto delle categorie sociali più deboli, almeno uno su sette lo lasci riposare. Visto che il lavoro andava da quando splutta di sole a quando tramonta e spesso anche di notte, uno su sette no, ti fermi, il tuo guadagno si blocca, rispetti, anche loro sono esseri umani. E per di più, riposando, hai il tempo anche di poter incontrare gli altri, partecipare all'eucaristia, eccetera, eccetera, eccetera. Allora, addirittura nel Medioevo, man mano la maturazione cresceva anche sul piano della consapevolezza, eccetera, si accorgeranno, perché non c'erano ferie, signori? Sì, fino agli anni settanta, chi ha parlato di ferie? Ma cosa facevano? Se i giorni erano duri da tirare avanti, spesso in certe situazioni umane, hanno inventato tutte le feste infrasettimanali? Peste dei santi? Ma ce n'erano nel Medioevo, a un certo punto, ce n'erano almeno una o due alla settimana, vuol dire che ogni due o tre giorni avevano un giorno di riposo. Potevano rilassarsi? Era una conquista sociale il riposo, cioè lo scopo è quello. Avere scoperto che si può lavorare anche di domenica e pensare che sia un valore delle coglione? Ha sentito quel polette in provincia di Padova, che si lamenta perché i negozi sono aperti a domenica, per questo motivo lo dice? Sai, per esempio, forse si dimentica che nel Medioevo erano le parrocchie a chiedere al re l'autorizzazione a fare il mercato di domenica. Perché se tu fai il mercato di domenica, la gente viene in piazza per il mercato e sei in piazza e vieni anche in chiesa. Se no sta a casa a dormere e la vignano a messa. C'è anche quell'aspetto lì, né? E addirittura nel Medioevo, ricordiamo che quando pioveva, il mercato ci faceva in chiesa. Ci faceva la celebrazione, presto, e poi tutto il giorno la chiesa era a disposizione del mercato. Perché? È un modo per aiutare la gente. Ci sono dimenticati che Cristo invece l'ha al centro. Anche quel, c'è anche quell'aspetto lì. Comunque era anche un modo per aiutare, per facilitare le cose. Magari per accanto su la Prudopala anche, dopo che poch'è. C'è anche quell'aspetto lì. Per dire come le cose magari cambiano. Io ricordo quando ero ragazzino, mio padre faceva l'ambulante, ma il giorno che si lavorava di più era la domenica. Perché quel giorno lì la gente veniva in paese vestiti della festa, non avevano fretta e si fermavano a fare le spese. E se anche la bottega era chiusa, passavano in casa. Se i miei problemi a qualunque ora, di regna orari, non era niente. E molti anzi la domenica mattina mettevano le loro merce fuori dalla porta, come nel Medioevo quasi. Perché la gente passando, si fermava, guardava e comprava. E poi era un altro giorno di chiusura. Non era quello. Basta, c'era la domenica appena, quando ero ragazzino io. Poi c'erano le feste, va bene le feste. Però non erano più tutte le feste del Medioevo, erano già sgrossate. Comunque il problema del riposo non è uguale per gli ebrei e per noi. Per noi l'importante è celebrare la Pasqua di Cristo. E far diventare al nostro quello che lui ha fatto. Quello per noi è la festa. E allora bisogna essere a casa. Esatto. Il riposo è utile per quello. Anche perché i primi cristiani lo facevano di notte, quindi se anche di giorno lavoravano, di notte erano liberi. Adesso non so chi sarebbe disposto a lavorare di giorno e di notte andare in chiesa per l'Eucaristia. Non so se mi piacerebbe molto.